Tutti i principali personaggi della storia americana sono massoni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! 5 generali della guardia di finanza, 22 generali dell'esercito, ma anche magistrati, imprenditori, giornalisti e soprattutto... Tutti i principali personaggi della storia americana sono massoni. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!